E' appena iniziato il tempo di quaresima, tempo che porta con sé memorie, tradizioni, usi, costumi, abitudini, tutte buone. In questo video 5 frasi che si dicono sulla quaresima e che forse potrebbero meritare una riflessione. La quaresima è un tempo triste. No, non è un tempo triste la quaresima. La meta della quaresima è l'incontro con il Cristo risorto. E il tempo di quaresima serve per un incontro più forte, più sentito con il Signore Gesù, che non può essere fonte di tristezza. Vero è che a volte la tristezza fa parte della nostra vita, per le più svariate ragioni. Benvenga se in quaresima riusciamo a fare anche un po' i conti con le nostre tristezze, le nostre ombre, le nostre ferite. Ma non è che la quaresima è un tempo triste. A volte occorre fare anche i conti con la tristezza per arrivare a una gioia che è più vera. E il Signore non ci vuole tristi. Il segno che Lui passa nella nostra vita è la consolazione. Ma per arrivare alla consolazione, vero è che qualche volta, con la tristezza, dobbiamo farci i conti. La quaresima è un tempo di penitenza. Eh sì, penso proprio di sì. Si tratta però di intendersi sul significato di penitenza. Nella nostra vita non c'è nessuna decisione seria che non comporti anche dei no. Decidere e recidere hanno la stessa radice. Dire di sì a qualcosa comporta di dire di no all'esatto opposto. Ecco, questa è la penitenza. È dire di sì a Cristo e dire dei no decisi a tutto ciò che contrasta con il Vangelo. Quindi sì, la quaresima è tempo di penitenza. Ma penitenza non è farsi gratuitamente del male, ma è imparare a dire un sì e i no che questo si comporta. La quaresima è il tempo dei fioretti. Allora, non è male il linguaggio dei fioretti. Cioè che accompagniamo anche il tempo quaresimale con qualche rinuncia. Ma potrebbe essere una cosa molto insidiosa. Che bravo sono stato! Ho fatto una quaresima senza mangiare cioccolato. Cioè sono un eroe. Ragazzi, ma in questa quaresima praticamente sono diventato un santo. Ho fatto tutti i giorni la preghiera che il Don ci ha suggerito. Oh ragazzi, ho fatto una quaresima senza social network. Adesso mi ammazzo di Instagram fino a giugno. E capisci che se sei tu il protagonista delle tue rinunce, se lo fai per dimostrare quanto sei bravo. Se ti serve per perdere mezzo chilo di troppo. E non va tanto bene. Rischia addirittura di diventare un mostro di orgoglio. Ma no, la quaresima non è il tempo per dimostrare quanto sei bravo. Benvenga a fare qualche esercizio anche per allenare la nostra volontà. Sia a fatto che non diventiamo dei mostri di orgoglio e che poi alla fine il tempo quaresimale lascia il tempo che trova. Cioè dopo non è cambiato nulla. Prova a fare delle rinunce che ti aiutano a mettere ordine nella tua vita. Prova a cercare un ritmo sostenibile di preghiera che puoi anche continuare dopo la quaresima. Prova a cercare quelle cose che sono veramente superflue e che addirittura possono non farti bene e che è meglio evitare nella vita. Insomma non serve a molto una rinuncia fine a se stessa. La quaresima è il tempo per fare un po' di più. Che senso ha fare un'ora di preghiera in più al giorno ma fino al giorno di Pasqua poi andata anche questa quaresima. Che senso ha fare delle elemosine ma fino al venerdì santo poi basta. Non so mi viene da ripetere quello che dicevo prima. Forse la quaresima non è il tempo del fare di più. È il tempo dove mettere ordine. Se già arrivassimo a Pasqua con uno stile di preghiera ordinato senza aver cercato l'impossibile. Ma la fedeltà al possibile nella nostra vita? Beh secondo me abbiamo già fatto tanto. Se non ho cercato mille elemosine in quaresima per poi non fare più niente dopo. Ma sono riuscito a identificare spazi di reale condivisione nella mia vita? Beh forse è meglio quello che mille cose per 40 giorni e poi nulla dopo. La quaresima è il tempo delle rinunce. Sì mi viene da dire un po' sì. Ma ancora una volta non è la rinuncia fine a se stessa. Questa quaresima è iniziata sotto il segno della pace minacciata e con le immagini di tante persone che stanno soffrendo. Questo ci ricorda che tutto il benessere di cui spesso godiamo forse non è così reale. E che facciamo parte di un piccolo gruppo di privilegiati sulla terra a cui non manca quasi nulla. Rinunciare allora non è autopunirsi. A volte anche solo creare un po' di giustizia. Cercare uno stile di vita un po' più sobrio. Provare a partecipare agli altri delle fortune che ho. Forse non deve essere solo questione di quaresima. Ma dovrebbe diventare stile di vita un po' più condiviso.